bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti beh ieri c'è stato l'aggiornamento tanto atteso la patch 14.60 che ha portato una tonnellata di novità la maggior parte di cose ovviamente sono nascoste quindi non le si vedono ancora in game ma vi garantisco che ce n'è davvero delle belle si parla di evento si parla di season 5 si parla di galactus si parla dell'arrivo di altre icon series e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di un post ufficiale su twitter del nostro donato mostarda il dona che mi scrive ancora noi siamo molto contenti perché fortnite è stato nominato a tre game awards il come dire lui è molto contento per il fatto che il talento del team di epi game venga ulteriormente premiato anche quest'anno e ovviamente ci auguriamo che fortnite porti a casa ancora un premio praticamente da quando è uscito fortnite ha vinto sempre premi nella game awards anche come gioco nell'anno quindi complimenti per tutto quello che stanno facendo speriamo che possano guadagnare qualche altro trofeo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è molto importante come vi ho scritto nel titolo è possibile ottenere gratuitamente questa skin che state vedendo come fare per ottenerla davvero semplice se avete un dispositivo android forse anche ios però non lo non lo so perché io non ce l'ho vi basta scaricare dal play store l'applicazione house party come sapete ragazzi quell'applicazione che collabora con fortnite lo capite benissimo perché vi basta seguire l'icona una volta che avrete scaricato house party vi basterà semplicemente linkare il vostro account di epic con il vostro account house party e automaticamente otterrete questa copertura che è praticamente rainbow fog quindi la nebbia arcobaleno ma molto molto bella una copertura gratis però ci dicono anche un'altra cosa siccome ci sono stati dei problemi noi sappiamo che l'applicazione house party la chat dell'applicazione house party non è funzionante scrivono direttamente loro su tutte le piattaforme quindi vi diamo un'altra possibilità per ottenere la copertura rainbow fog tra il 20 novembre e il 26 novembre se tu giocherai 5 match su fortnite con i tuoi amici otterrai comunque la copertura quindi ragazzi davvero niente di più semplice per mettervi nel vostro armadietto un altro bellissimo oggettino che fortnite decide di regalarsi daje e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa facciona sorridente qua la riconoscerete sicuramente è alia milioni di iscritti su youtube milioni di visualizzazioni ogni giorno alia pubblica posta direttamente sulla sua pagina twitter questa immagine dice wow a big temp big tank photo fortnite game per questo bellissima per questo bellissimo pezzo d'arte come vedete ragazzi alia x fortnite super hero ed è una roba davvero molto interessante perché epi games ufficialmente gli regala questa immagine non è che epi games proprio regala cose a tutti che anche qua potrebbe essere un piccolo spoiler per quello che sarà una delle nuove icon series vi ricordo che abbiamo avuto l'aklan un paio di settimane fa arriverà all'inizio della season 5 la skin di greg fan anche lui è milioni milioni di visualizzazioni perché non dovrebbe arrivare allora quella di alia beh aspettiamoci ma aspetto qua di xuder ora qua di xuder dove diamine porca miseria come si dice potrebbe arrivare ragazzi con questa immagine direi che forse un po di spoiler c'è e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per tutti i giocatori di salva al mondo vi ricordo è disponibile il nuovo pack il vindertex soldier quindi un nuovo bundle che con il prezzo di 19 99 dovrebbe essere include mille v bucks la skin che state vedendo con il suo backpack dei ticket lama e anche la possibilità di avere salva al mondo qualora non lo aveste vi ricordo che anche se prendete questo bundle salva al mondo non vi darà più i v bucks quindi ragazzi pensateci fate la vostra scelta la skin dovrebbe essere comunque utilizzabile anche nel battle royale sicuramente un bellino pezzo da collezione da avere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo finalmente il nome ufficiale dell'evento in game che si chiamerà the devore of words il divoratore di mondi un nome super azzeccato dato che sarà proprio galactus ad avere la meglio ad avere la meglio ad avere diciamo la l'esclusiva su questo evento e sarà qualcosa di incredibile perché leggevo nei vari post dei data miner dei ragazzi che fanno comunque leaks di fortnite che si parla di un evento di 4 giga ragazzi 4 giga vi dico solamente una cosa per farvi capire di cosa stiamo parlando l'evento di travis scott ok pesava 460 mega quindi stiamo parlando di qualcosa che è 10 volte più grande deve essere come anticipavano quelli di fortnite una roba allucinante e probabilmente tutto quello che noi pensiamo non sarà che la punta dell'iceberg di quello che seriamente succederà in game tra l'altro nel video news di ieri mattina vi avevo detto che direttamente da fortnite avevano detto che hanno investito parecchio ma proprio investito speso per questo evento quindi hanno preso del nuovo personale nuovi grafici tante energie tante ore di lavoro per creare quello che sarà probabilmente un evento sconvolgente nella storia di fortnite insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su raga mandiamo il video nei consigliati di youtube noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao